Montanella Mica, direttrice artistica dell'APD Big Bang e Arturo La Palma, giudice Sismeno Prendetevi l'applauso dai ragazzi Vabbè, potete andare a studiare un po' un momento Continuiamo, il capo giuria, il sederizzo del voto è Ernesto Mario Daga Ed ora passa la parola al Presidente regionale del MSP Cosmo Gaglione che ha fortemente voluto questo Grand Prix Buongiorno Allora, quest'anno siamo partiti con il primo Grand Prix quest'anno del MSP Spero che l'anno prossimo sarà molto migliore Perché prima volta ci sembra cosa che bisogna correggere Allora, prima di iniziare devo ringraziare Alto Mare Alto Mare dove sta? Vieni qua, Alto Mare Vieni qua Alto Mare, vieni qua Che è il signor Peluso Che sono stati i promotori a guardi questa facoltà di fare E poi ringrazio anche gli amici del MSP che hanno partecipato volentieri a questa manifestazione E spero che saremo tutti contenti oggi I giudici faranno il loro delere senza parzialità Benissimo, saranno ben organizzati a dare dei buoni giudizi a Bastanza Brai E poi, ripeto, di riferimento a tutti i ballerini E una pausa a tutti i ballerini Buon divertimento a tutti Buon divertimento a tutti Grazie 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 a tutti 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 Grazie a tutti